Senza adeguati interventi, che ora non vediamo all'orizzonte, il nuovo anno scolastico ripartirà con una scuola più insicura e precaria, oltre 700 tra docenti e ata, o addirittura non ripartirà. È il grido d'allarme dei sindacati del comparto, CGL, CISL, Will, SNALS e Gilda. Stamane a Campobasso, in Piazza Pepe, davanti alla prefettura, il sit-in per sensibilizzare il governo e in questo caso la sua rappresentanza sul territorio circa la necessità di un piano straordinario di investimenti. Sappiamo che ad oggi non esistono risorse sufficienti per far ripartire l'anno scolastico in sicurezza. Quindi è inutile dare delle indicazioni tipo dividiamo le classi metà in presenza e metà in assenza oppure adesso è uscita l'ultima boutade dei plexi classe all'interno delle aule oppure ancora altre amenità che si sentono quotidianamente all'interno delle interviste della nostra ministra. Per far ripartire la scuola in sicurezza ci vogliono risorse, ci vogliono organici e ci vogliono investimenti. Potenziamento degli organici, riduzione del numero degli studenti per classe con il tetto dei 20 alunni, piena funzionalità alle segreterie scolastiche e ancora, secondo i sindacati, necessari interventi in materia di edilizia scolastica nonché l'assunzione fin da settembre, attingendo dalla graduatoria per soli titoli, del personale con almeno tre anni di servizio. Altra richiesta, il rinnovo delle graduatorie provinciali con procedura online entro il mese di agosto. Noi vogliamo che la scuola a settembre riparta ma deve ripartire in presenza perché la didattica a distanza è stata una didattica dell'emergenza, è stata una didattica che ha escluso i più deboli che per esempio ha discriminato quanti non avevano risorse per collegarsi, diversamente abili. Quindi se vogliamo riprendere la scuola in presenza bisogna tornare indietro, perché il taglio grosso è stato fatto anche in passato, sugli organici dei docenti, del personale ATA e sull'edilizia scolastica. E le competenze sono di tanti, non è solo il Governo nazionale, anche il Governo regionale bisognerà che si adoperi da subito per un piano integrato dei trasporti, per trovare edifici che possano supportare le emergenze epidemiologiche. Altrimenti faremo solo e esclusivamente chiacchiere e dichiarazioni propagandistiche. Ora noi siamo a giugno, siamo qui davanti alla Prefettura per farci sentire nei confronti anche di coloro che rappresentano il Governo sul territorio. Se questa situazione non cambierà a settembre noi avremo dei problemi enormi. Quindi da oggi, da subito bisogna ripartire per settembre, altrimenti le scuole non riapriranno.